Anticipazioni in segreto, puntata di giovedì 9 marzo 2017. Cosa nasconde Don Berengario? Grazie alle trama del 9 marzo 2017 apprendiamo che, mentre Francisca teme per la sua vita a causa degli anarchici che stanno terrorizzando Puente Viejo, Ernando scopre che Severo è riuscito a risolvere il problema della canalizzazione dei campi della sua tenuta. Dolores, intanto, capisce che il nuovo curato del paese, Don Berengario, nasconde uno scottante segreto. Prima parte. Le paure di Francisca. Dopo il drammatico attentato avvenuto a Munia, gli abitanti di Puente Viejo organizzeranno una riunione straordinaria alla quale Raimundo, che è ancora sotto shock dopo la terribile esperienza vissuta, deciderà di non partecipare. Alla riunione parteciperà però Severo, appena rientrato dal viaggio di nozze. Nel frattempo, Francisca è sempre più in apprensione temendo un eventuale attacco anarchico contro di lei. Per questo motivo, preoccupata per la propria incolumità, ella deciderà di rafforzare la sicurezza intorno a Villa Montenebro. Seconda parte. Severo salvo, tutti furiosi. Nel frattempo, Camila rivela al marito Hernando che Severo sembra aver trovato il modo di irrigare la tenuta nonostante le sue manovre. In questo modo egli riuscirà a salvare la propria attività, a dispetto di quanto auspicato dal Dos Casas, che aveva cercato di sabotare l'irrigazione della Miela Marga. Il perfido Hernando non prenderà molto bene la notizia visti i suoi intendi di rovinare l'attività del fratello di Sol. Una reazione simile alla sua sarà quella di Francisca Montenegro, che farà dell'ironia sul Santa Cruz, ma dovrà ricredersi molto presto. Ultima parte. Cosa nasconde Don Berengario? Mentre Mauricio decide, a costo di qualche sacrificio, di sorprendere Fè regalandore il bellissimo vestito che l'aveva adocchiato qualche giorno prima nella boutique di Mariana e Gracia, Dolores scoprirà qualcosa di piuttosto scottante. All'emporio arriverà Don Berengario, che farà una telefonata piuttosto strana. Dolores, in picciuna come sempre, ascolterà la comunicazione, e verrà a sapere qualcosa di davvero sconvolgente. Di cosa si tratterà mai? Scopriremo questo e molto altro attraverso le prossime anticipazioni in segreto.